La cultura africana, parliamo della danza, è il contatto del corpo sulla terra che cambiano un'energia senza che la persona si resa conto, perché la persona ha dei doni in atto che devi sviluppare e nella danza l'espressione del corpo è trasmettere, condividere per fare una festa. La danza afro è una danza espressiva, quando vedi che la persona balla si lascia il suo spirito, ma vedi che c'è un'energia, sentirsi cosa sono io e sentirsi bello. Una persona che vuole venire qua non aspetta che diventerà una ballerina famosa, ma noi facciamo una danza più espressiva per condividere la cultura africana. Ogni giorno impari qualcosa di più e quando ti interessa in un'altra cultura vuoi dire che apri una finestra di più nel tuo universo. Grazie. 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 Grazie.